Ciao a tutti! Oggi prepareremo la frittata di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a dadini, provola tagliata a dadini, parmigiano grattugiato, pan grattato, uova, prezzemolo, rosmarino, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Mettere da parte in una ciotola capiente e lasciamo intiepidire. Senza lavare il boccale mettiamo le uova, il rosmarino, il prezzemolo, il sale, il pepe, il pangrattato e il parmigiano grattugiato. ed amalgamare per 30 secondi a velocità 7. Versare il composto nella ciotola con la zucca. Mettere la provola ed amalgamiamo bene. Versiamo in una pirofila ben oliata e spolverizzata con del pan grattato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. la frittata è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. frittata di zucca. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.